viviamo in un'epoca che è molto interessata all'immagine esteriore per apparire per convincere per vendere se stessi e allora ci domandiamo in che modo possiamo avere una bella immagine qual è lo stile adatto se permetti voglio darti qualche indicazione in modo che tu possa trovare lo stile di vita adatto a te innanzitutto trova te stesso questo è fondamentale questo è il primo passo che devi compiere quando cerchi lo stile di vita adatto a te perché il tuo stile deve esprimere te non devi esprimere tu uno stile quindi non marchiarti credendo che così esprimi qualcosa che vale alcuni indossano vestiti particolari perché sono firmati sono marchiati così appartengono a quel gruppo altri si fanno tatuaggi perché vogliono rappresentare dei valori che secondo loro hanno detto altri e siccome imitano gli altri credono di aver valore non funziona così quelle persone stanno facendo pubblicità a qualcun altro ma non stanno esprimendo se stesse e allora per esprimere il tuo stile devi cominciare trovando innanzitutto te stesso a questo punto quando hai le idee chiare c'è un secondo passaggio una volta che hai capito chi sei scopri quanto etica e quanto vitale è la tua essenza e fa di tutto per innalzare la tua essenza ad un livello degno di un essere umano cioè un livello basato su amore verità e bellezza non basta che tu scopri qualcosa di te qualche particolare un po' nascosto qualcosa che non avevi mai confessato e non puoi dire che quella cosa inconfessabile è il tuo stile di vita una volta che hai capito chi sei che hai scoperto il tuo nucleo devi ripulirlo devi capire quanto etica e quanto vitale è la tua essenza non devi mostrare in pubblico i tuoi difetti non devi nemmeno nascondere i tuoi difetti tu devi vivere senza difetti devi vivere ad un livello degno di un essere umano cioè un livello basato su amore verità e bellezza quindi devi fare un bel lavoro di pulizia del tuo nucleo prima di poter pensare ad esprimere uno stile di vita adatto a te lavora tenacemente ogni giorno per esprimere i più alti valori fondati su amore verità e bellezza quella è la vera priorità e da lì deriva lo stile di vita adatto a te che ti rende unico e speciale è giusto che tu voglia essere originale tu sai che hai una missione nella vita scopri chi sei scopri qual è la tua missione ripulisci la tua essenza ispirati ad amore verità e bellezza e lavora tenacemente ogni giorno per manifestare la tua missione quella è la vera priorità da lì deriva il tuo comportamento e di conseguenza quello è lo stile di vita adatto a te